Amici di Radio Ascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo Stadio Olimpico di Roma, da dove vi parla Giuseppe Bisantis, grazie all'assistenza tecnica di Fulvio Cellini e Roberto Lattanzi. Primo di tre posticipi di questa quattordicesima giornata del campionato di Serie A in campo Lazio e Fiorentina. Con la Lazio che avrà l'opportunità, dopo la sconfitta nel derby, di riagganciare proprio i giallorossi. Entrambe poi dovranno recuperare una partita Roma che nel pomeriggio è stata fermata dalla Genoa. Di fronte però la Fiorentina, squadra che deve ancora trovare una sua vera e propria identità, veleggia a metà classifica. Buona la cornice di pubblico, ricordiamo che è il secondo turno di squalifica per la curva nord della Lazio per cori rassisti durante la partita col Sassuolo. Una è saltata proprio per la partita che non si è disputata per il maltempo Lazio-Udinese. E quindi ancora una volta i tifosi della nord sono stati spostati nella sud. Speriamo di non avere altre brutte sorprese perché è fastidioso solo parlarne. Parliamo invece della partita, le squadre sono in campo. Ma attenzione Fiorentina che recupera un pallone e prova ad andare via ancora con Simeone, il tiro da fuori! E Stracoscia la vede partire tardi, anzi la proprio Terò che era partito in grandi foul cut, tipica sua azione. Il tiro, Stracoscia forse si è tuffato in ritardo, per sua fortuna e per fortuna della Lazio la palla è uscita fuori di poco. Adesso c'è un'accelerazione della Fiorentina, attenzione perché Cisimeone in ottima posizione, riceve però in zona arretrata. Ancora il tocco all'indietro, il tiro da fuori, centrale, la parata di Stracoscia. Gran bella partita, 13 e mezzo, 0-0, la conclusione era stata di Biraghi. Da Badel ancora per Astori che sbaglia il rilancio e lo recupera ancora Lazio con Lucas Leiva, il tocco per Luis Alberto. Attenzione, un buon tiratore, limite dell'aria, ci prova e sbaglia tutto ma è fortunato Sportiello. Era nettamente sul pallone Sportiello, poteva bloccarlo invece praticamente o è scivolato oppure l'ha battezzato male. Alla fine ha dovuto deviare in corner rischiando di prendere un gol, diciamo buffo. De Vrij e la Lazio si è portata in avvantaggio, 24esimo minuto, punizione di Luis Alberto. Testa di De Vrij, niente da fare per Sportiello, 24esimo minuto, Lazio 1, Fiorentina 0, Civitanova. Stefan De Vrij, l'urlo dei 27.000 dell'Olimpico, a segnalare questo gol della Lazio. De Vrij, che è molto alto, è andato ad anticipare di testa un compagno, anche lui molto alto. Milinkovic, Savic, punizione dalla sinistra di Luis Alberto, due giocatori a staccare. De Vrij che colpisce, tocca solamente Sportiello, palla sotto la traversa, un gol un po' alla Sergio Brio. No, no, no. Luis Alberto ha messo una grandissima palla da tre quarti, proprio in mezzo al rigore. De Vrij ha fatto uno stacco imperioso di testa, prendendo tutti sul tempo e facendo un grandissimo gol. Ma lì un pochino di malizia ci voleva da parte anche della difesa della Fiorentina, perché si è fatta trovare proprio sotto la porta anche di Sportiello. Potevano portarli anche fuori, lasciandoli in fuorigioco e tenerli. L'hanno tenuto di troppo nei 5.50. Attenzione ancora Lazio, Luis Alberto che scodella. Un pallone per la testa di Parolo che però ci va. Con scarsa convinzione appoggia praticamente tra le braccia di Sportiello. Però che giocatore che De Vrij. Mi sta piacendo sotto l'aspetto anche difensivo, perché questa sera trova una delle difficoltà incredibili quando riparte la Fiorentina. E se i tre difensori stanno facendo un'ottima partita, è poi andato a staccare di testa con un stacco imperioso incredibile. Sì, tra l'altro anticipando un altro che è molto bravo di testa, come Milinkovic Savic, un suo compagno. Certo Sergio, lo dicevi tu, due giocatori che saltano da soli nell'area piccola. Ma poi portati troppo sotto Sportiello, dovremmo tenerli un pochino fuori e lasciarli in fuorigioco. Perché le hanno portati troppo davanti a Sportiello. Quindi quando succede qualcosa è troppo facile far golla lì. C'era Pezzella, che è anche lui un difensore molto alto, che provava a marcare, però praticamente se l'è perso De Vrij. Che è andato a colpire di testa, qui Sportiello, miracoli, non ne poteva fare in quanto il giocatore laziale ha colpito praticamente da dentro l'area piccola. E quindi insomma, o fai una prudezza, oppure il pallone va in fondo alla rete e così è stato. Ancora Lazio, tiro da fuori! E palla che termina di poco a lato ancora Luis Alberto. E questo è un bel destro, è un fraseggio buono della Lazio, che adesso si mette in movimento ancora con Milinkovic Savic, che scarica sulla sinistra, immobile, il tiro e la parata da parte di Sportiello. Vito Rubo, che rilancia l'azione per la Fiorentina, ha ancora il tocco poi per Veretout, che si accentra il francese, ha ancora Birra. Pallone che viene servito per Benassi, tre contro tre, Benassi, Benassi, limite dell'aria, scarica, conclusione ancora una volta centrale di Babacar. Ma questa è un'azione che la Fiorentina avrebbe potuto concretizzare meglio. Ma attenzione adesso alla Lazio, che sbuca sulla corcia di sinistra, vediamo se Lukaku tiene in campo il pallone, sì, effetto un cross, colpo di testa, parata, Luis Alberto, fuori! Che occasione per la Lazio! Ma attenzione a Chiesa, che recupera, palleggio, sinistro, scarica, Badel, ancora per Diraghi, sulla sinistra, Diraghi la mette al centro, arretrata, arriva Caicedo, che svirgola una poi la rilancio, pallone che resta lì, qualcuno della Fiorentina protesta, si prosegue, tre minuti, tre minuti di recupero, cross al centro, colpo di testa, attenzione, pericolo, in aria di rigore, rovesciata e prudezza di Stracoscia! Poteva essere un gol spettacolare di Pezzella, rovesciata, e si disperano i tifosi della Fiorentina, ma Stracoscia, che abbiamo detto, gli hanno tirato addosso, stavolta ha salvato la partita. Era angolatissima, lui ha fatto una grandissima parata, anche se c'era prima un fallo di un giocatore della Fiorentina su uno della Lazio. Ah, poi hai visto un fallo, c'era una confusione pazzesca. Prima, prima, e quindi adesso Pezzella ha fatto una prudezza, facendo una girata incredibile. La bravi tutti e due, anche Stracoscia. Bravi tutti e due. Sì, sì. Questa è stata una delle cose più belle della partita. Meritava Pezzella il gol. Eh, sarebbe stato uno dei gol più belli del campionato, perché... È vero. Parliamo di un difensore, ma ha fatto una rovesciata davvero da centravanti. E grande brivido per la Lazio, ma Stracoscia ha salvato al novantesimo scaduto, perché siamo al novantunesimo, si giocherà fino al novantatresimo. I tifosi della Lazio incitano la squadra, rivolgono l'aggancio alla Roma dopo il derby perso. Una settimana fa, qui all'Olimpico, entrambe le squadre, Roma e Lazio, dovranno recuperare una partita. Con la Sampdoria la Roma e con l'Udinese la Lazio, intanto c'è... Attenzione perché l'arbitro sta andando a vedere il VAR, è forse l'episodio che dicevi prima tu, però in questo caso non può essere un fallo per un difensore. Vediamo che cosa succede, Inzaghi nervosissimo, in panchina. È stato chiamato evidentemente dal VAR, perché l'arbitro aveva lasciato proseguire. Vediamo che dalla Fiorentina qualcuno spera e l'arbitro Massa è andato a vedere che cosa è successo. Tra l'altro VAR, che in questa giornata qualche pasticcio l'ha combinato, perché ieri l'arbitro di Cagliari Inter, Pairetto, è andato a vedere il VAR e non si è accorto che c'era fallo sul terzo gol dell'Inter. Ci dicono, attenzione perché Massa va verso l'area di rigore, vediamo che cosa indica, sono tutti lontani, Massa arriva al limite dell'area di rigore, segno del VAR, calcio di rigore. Calcio di rigore per la Fiorentina. Al 92esimo rende vana la parata di Stracoscia, ma sinceramente noi non l'abbiamo visto, perché c'erano tantissimi uomini in aria. Quindi il nostro Filippo Grassia ci aiuterà a breve a capire che cosa sia successo. Ha visto il video, ieri Pairetto ha visto il video, ma forse gli hanno mandato un'immagine sbagliata. Eravamo presi dalla gran parata sulla rovesciata di Pezzella, c'è stato un tentativo di Caicedo che ha compito il Filippo. Io ti dico una verità, prima dell'azione l'avevo visto questo contatto, però Massa ha lasciato proseguire. La rovesciata di Pezzella è avvenuta ben oltre. Babacar contro Stracoscia, 92esimo minuto. La Fiorentina alla palla del pari, Pioli quasi non guarda, si gira dall'altra parte. Kouma, Babacar contro Stracoscia. Vediamo se recupererà e se riuscirà a ripetere il miracolo nella partita con la Juventus. Contro Di Bala, parte Babacar, tiro, rete! Pareggio della Fiorentina, 93esimo, rigore assegnato dal VAR. Si discuterà, io ho visto Caicedo che voleva liberare e ha colpito con una piede il giocatore. Io l'avevo vista questa azione, però ho visto che Massa ha lasciato proseguire, poi la spettacolare rovesciata di Pezzella. Ma neanche i giocatori mi sembra che si siano lamentati. Ma sul VAR sai, anche se ieri, ripeto, a Cagliar Inter un pasticcio c'è stato. Secondo me è stato chiamato dagli assistenti del VAR. Eh sì, lui era andato, addirittura questo annulla quella bella azione di Pezzella e la gran parata di Stracoscia perché è avvenuto prima di quella rovesciata. E quindi il rigore di Babacar che pareggia proprio quando ormai la Lazio assaporava la vittoria. Ancora Fiorentina, si coordina, tiro, palla che termina fuori. Ci ha provato Chiesa da lontano. Tre fischi, Lazio 1, Fiorentina 1, Chiesa chiede un angolo, ma la partita è finita. Il commento di Sergio Brio. Beh, grossa occasione persa dalla Lazio per portarsi alla pari della Roma dopo la sconfitta del derby. Mentre un grande punto per la Fiorentina che viene a pareggiare qui a Roma, è una partita difficilissima. Quindi il Pioli deve essere molto contento del risultato e anche dell'atteggiamento che hanno avuto anche i suoi giocatori perché non mi hanno mai mollato, è stata sempre in partita e mi ha deluso un pochino la Lazio specialmente nel secondo tempo che ha mollato, poteva fare molto di più.